Amici campioni d'Italia, amanti del calcio, un saluto da Luca Zed. Allora, notizia flash, notizia dell'ultimo minuto. Diallo avrebbe superato Tanganga nella preferenza del Milan per approdare in rosso-nero. Il PSG avrebbe, usiamo il condizionale, avrebbe accettato il presto con diritto di riscatto, addirittura a prezzi più bassi rispetto a quelli di Tanganga. E si farà anche carico di parte dello stipendio, quello che voleva esattamente il Milan. Quindi Diallo credo sia, tra l'altro, anche tecnicamente la scelta migliore, anche perché piace al Milan, per il fatto che il difensore sa fare il centrale e sa fare anche il terzino, quindi una duttilità sempre apprezzata da Pioli. E poi ovviamente Diallo, sì, anche tecnicamente un giocatore più forte di Tanganga, a mio avviso. L'indicazione di questo è anche il fatto che giocando nel PG prende uno stipendio che si agisce intorno ai 9 milioni di euro netti a stagione. Per cui grande notizia, dovrebbe essere attendibilissima. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, Dianlo vicinissimo al Milan, scrivetemelo nei commenti e lasciate come al solito un like. Io vi do appuntamento a una prossima notizia, se ce ne saranno. Per adesso è tutto, un saluto da Luca Zedda. Forza Mila!